Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo qui su Smash Legends, un giochino che mi hanno fatto provare. Io attualmente lo sto giocando da PC, infatti è giocabile anche da PC, ma c'è anche per cellulare, iOS, Android, tutto, tutto. Non è nuovo, infatti è uscito un po' di tempo fa, ma hanno detto che metteranno le ranked nuove cose, ma inutile starlo a spiegare. Andiamo a giocare, vi faccio vedere che cosina è, che cosina è perché è molto, molto, molto carino. Me l'hanno fatto vedere, ho detto mmm, poi l'ho provato, ho detto mmm, vediamo se direte voi la stessa cosa. Se vi piace, lasciate un bel like, un commentino, scaricatelo, anche voi ci giochiamo insieme, aggiungetemi, facciamo cose su Discord, entrate tutto in descrizione, sapete no? Andiamo, 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 come già detto io gioco da computer, ma c'è anche da cellulare. Allora, cosa bisogna fare? C'abbiamo la squadra dei tre personaggi, oddio no, qua hanno fatto già il salto. E c'è questa, questa zona qua, questo quadrato, penso sia un quadrato insomma, no? Che, eh, bisogna conquistarlo. Quindi dobbiamo buttare brutalmente gli altri ammazzate fuori da questo quadrato. Io, sono questo personaggio qua con la spada, e monna, io doppia! Andiamo con la doppia, e vedete? Si carica la barra sopra e abbiamo fatto un punto. Ecco, forse togliere le mani della tastiera non è una grande idea. Sentirete anche un po' la tastiera, magari, però... Eh, eccoci abbiamo la ulti, guarda qua, boom! Ho fatto una kill? No, non ho fatto una kill, però... Eh, 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 oddio, uno l'ho ammazzato. Ma ammazziamo anche due. Eccolo là, eccolo là, madonna mia. Tre punti, siamo a tre punti. Una volta che si arriva a quattro abbiamo vinto, eh. Quindi, fai questo ulti! Boom! Dai, dai, dai. Loro ovviamente dobbiamo buttare fuori tutti gli altri per fare punto, perché se ci stanno anche loro, il punto non vale. Esatto. Quattro punti, GG. Si porta a casa la vittoria e l'MVP. L'MVP. Addirittura. Questo Vapor sa il fatto suo. Andiamo avanti. Ecco, come vedete, vabbè, ci sono varie missioncine, cose. La domanda che magari mi è venuta anche a me è pay to win. Ma per ora non mi è sembrato. È vero che sono ancora stra agli inizi. Però io non ho ovviamente speso niente e stiamo giocando abbastanza bene, abbastanza bene. Si possono potenziare i propri personaggi. Infatti, come vedete, vabbè, il tasto sotto di me c'è potenzia, ma è con questa voluta qua, quella di gioco. Vediamo un altro, l'altro personaggio. Questo che voglio far vedere, che lo stavo usando di recente. E lo usate un po' perché è veramente simpatico. Allora, tastiera, a me, grazie. Simpatico perché fa una cosa che potrebbe piacervi. Ma vediamo. Abbiamo tre abilità, comunque. L'attacco base, l'attacco caricato e la ulti, praticamente. Quindi vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Dominio. Poi ci sono anche tante altre modalità, eh. Non ci sta solo la dominio. Vedete, questo si ricarica veramente velocemente la ulti perché... Ecco, praticamente non fa niente per ora. E siamo un po'... Siamo un papero su una scopa, insomma, ecco. Anzi, con una scopa. Quindi non siamo molto forti. Però... Vediamo se vi facciamo da comunque qualche ammazzata. No, niente, niente ammazzate. Eccolo qua, noi abbiamo la barra piena. E vediamo... Niente, ci hanno ammazzato brutalmente. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Adesso sicuramente sì. Però gli altri hanno già preso un po' di vantaggio. Questo purtroppo no bueno. Eccolo! Questo è il segreto di questo personaggio. Ai ai ai, però. Minchia. Malissimo, mi hanno fatto malissimo. Eh, niente, ci hanno ammazzato di nuovo. Questi sono forti, eh. Questi sono forti. Infatti, stiamo... Stiamo soffrendo. Tre punti per loro. Anche cadendo di giù, si perde. Tanto tiriamo pure la bomba. Abbiamo raccolto la bomba. Ai ai ai. Purtroppo questo personaggio è così. Un attimo che... Dobbiamo caricare. Tiriamo la scopa, va. Eccolo. No. Sono riuscito, sono riuscito a prendere. Eh, ma... Mi sa che loro... Ce l'hanno in pugno questa. Ce l'hanno praticamente in pugno. Sì, noi non riusciamo a fare granché. Niente, niente. Questa mi sa che si perde. Ai ai ai. Vediamo... Sì, niente. È loro, è loro. Vi ho fatto vedere la trasformazione. Però, purtroppo, personaggio che... Mi piace un sacco perché si trasforma, ma... C'ha delle sue difficoltà. Però molto carino. Mi piace un sacco la papera con la scopa. Vi va a vedere un altro personaggio, ah. Di quelli che ho sbloccato adesso. Tra l'altro... Vi ho fatto vedere quello iniziale. Che è questo qui, Peter. Questo l'ho sbloccato io. Tra l'altro, il secondo giorno vi danno un... Un personaggio da sbloccare gratis. Per tutti. Cioè, tra tutti quelli usciti. Credo, tra negli ultimi... L'ultimi due. Andiamo a vedere... Questa l'ho giocata veramente tanto. Fiammetta. Vi faccio vedere. Prima Snow. Vai, ci abbiamo pure... Cosa per potenziarlo. Quindi, potenziato un pochettino. E andiamo a fare... I guli, i guli. Lui è un assassino, Snow. Invece gli altri erano... Oddio, non mi ricordo esattamente. Però, la papera è specialista. Qualcosa di strano. Allora. Andiamo un po'. Lui è assassino, quindi... Farà sicuramente un sacco di danni. Vediamo. Vediamo un po'. Lui non l'ho usato tantissimo, ma... Comunque molto forte. Dove stanno i miei compagni? Aiuto! Oddio. Devo cercare di infilzare con... Con l'attacco caricato, perché se no... La ultima, nel suo caso, è praticamente solo uno scatto. Però... Molto utile, essendo appunto un assassino. Andiamo qua. Eccolo! Guardali la kill! Doppia! Tripla? No! Ok, ok, ok. Ci hanno pensato i miei compagni. Solo che sono veramente basso di vita adesso. Aia! 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 Eh, niente. Niente. Forte, ma forte anche lui. Come personaggio. Non so ancora i nomi, non so niente, ma... Quella... Quella cosina lì ti ricarica la ulti. Infatti... C'è la ulti piena, non è una cosa saggia a prenderlo. Però... Eccolo, l'altra kill. Scattiamo di qua. Vediamo se ce la facciamo fare qualche kill. No, non l'ho preso. L'attacco caricato suo è veramente forte. Vai! Preso! Ok. No, non l'ho preso di nuovo. Perché se riusciamo a prenderlo con l'attacco caricato... Gli fa una combo, praticamente. Eccolo! Presi, presi, presi. Oddio. 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 Dai, dai, dai! No! Ci siamo bloccati per un secondo. Anneggia. Siamo 3 a 2, comunque. Siamo 3 a 2. È fattibile, è fattibile. Eccolo! Vai! Sì, è ucciso! Let's go! Andiamo, andiamo, andiamo. Dai, 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 che non ci stanno. Dai, che non ci stanno. Dai, che sono morti. No, brutto. Dai, che la vinciamo così. Boom! Uno fuori. Boom! Così, vai, vai, vai! Dai, che abbiamo vinto! Dai, dai! Let's go! Let's go! E portata a casa anche questa. Portata a casa anche questa. L'animazione qua. Intanto io aggiusto cose qui. Eccolo. L'animazione. Molto carina, devo dire. Molto carina. Questo personaggio mi piace. Ecco, vedete, abbiamo fatto la missione. Gioca cinque volte. Cioè, il pass. Io questo non l'ho pagato. È un pass gratuito. Quindi... Smash, eh. Prendiamo cose. Ricompense. Il segnale. Un emoji. Abbiamo sbloccato un emoji. Vi faccio vedere. Anche, anche, anche. Dove... Eccolo qua. Fiammetta. Vai. Possiamo potenziare pure lei, però vabbè. Lei è già abbastanza potenziata. Ci sta. Ci sta così. Fiammetta è diversa dagli altri perché attacca da lontano. Quindi possiamo rimanere un po' più indietro magari per buttare bombe sugli altri. Buttare bombe. Dai, dai, dai. Ok. Abbiamo contro il personaggio che abbiamo utilizzato prima. Quello con la spada. Vediamo cosa riusciamo a fare. Purtroppo non abbiamo tanti HP con lei. Aia. Ecco, vedete. Preferisco sempre sparare saltando perché... Gli altri... Cioè, quasi sempre. Gli altri spesso mi fanno... Fanno mosse da terra. Quindi... Io salto e sparo. Salto e sparo. Ora qui, ora qui. Eh, gli sto facendo male, eh. Sto facendo molto male. Madonna mia. Ma... La... L'abilità potenziata pure è bella. È bella. Ma la ulti. La ulti. Guardate qua. No! Che fail. Che fail. Si è fermata sul lampione. No, non morire. Ah, se cade lì sotto, muori, ovviamente. Mi si è fermata sul lampione. La ulti. Aiuto. E rientriamo perché se no prendono il punto loro. Eh, l'hanno preso. Mannaggia. Mannaggia. Ufff. Oddio, che botta. Prendo un po' sta bomba. E la tiriamo. Ai, 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 ai. Eh, c'avevamo pochissima vita. 2 a 1 per loro. 2 a 1 per loro. Però adesso controlliamo noi. Buono. Eh, mannaggia. L'ha preso lui, mi sa. Vedete? Con questa mi... Riesco a spostarmi abbastanza agilmente. Con l'attacco potenziato. E sposto anche gli altri, devo dire. Dai, ma vi faccio vedere la ulti per bene. Vai. Boom! E crea quella zona lì di inferno per gli avversari. Veramente fortissima questa ulti. E questo tra l'altro è uno dei personaggi iniziali, eh. Fiammetta. Perché io non ho assolutamente pagato per averlo, quindi... Anzi, quello che ho sbloccato è stato proprio la papera. Quindi forse ho fatto una scelta non azzeccatissima. Ma comunque... Comunque, cerchiamo sempre di tenerlo... Tenere gli avversari fuori. Questo, dai, che c'ha pochissimi HP. Vediamo. Boom! Preso! Match point. Aie, 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 aie. Eh, qua, mi sa che ci muoio. Oddio! Oddio! Oddio, scappo! No, non sono scappato mai. Dai, dai, ci abbiamo il match point. Il match point basta buttarli fuori. Arrivo io con la ulti e faccio un casino. Vai, 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 faccio un casino. Boom! Guarda lì la ulti! Guardalo! Guarda tutti fuori! Tutti fuori! Tutti fuori! Tutti fuori che si vince qua! Eh, la ulti non è bastata. Ma adesso... In qualche modo li tiriamo giù. Aia! Quella fa veramente male. E prima chi l'ha andata? Dai, 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 dai! Ci serve anche lei! Oh, no! Oh mio Dio! Dai, dai! Let's go! Let's go! È uscita per quel mezzo secondo dalla base e abbiamo preso la vittoria. GG! 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 Niente male. Devo dire niente male. Ragazzi, io sti giorni mi ci sto mettendo... Non lo so, non lo so, non lo so, ci sto giocando troppo. Veramente troppo. Pass. Altre cose sbloccate. Ricompezza. Poi ci abbiamo, vabbè, potenziamenti esperienze e tutto quanto. Quindi vi dicevo, tra qualche giorno hanno annunciato un update in cui mettono anche le ranked. Più di questo. È vero che i personaggi si potenziano con la valuta, insomma, si potenziano e quant'altro. C'è anche i talenti, puoi sbloccare nuovi talenti. Ma penso che sia tutto free to play. Ok, chiaramente chi paga lo ha prima, come in tutte le cose. Però, penso si possano potenziare, ad esempio io qua. Posso potenziare ancora la mia fiammetta. Vabbè, adesso non lo faccio perché sennò spreco i soldini. Possiamo comprare altri personaggi, ce ne stanno veramente tanti. Tipo questo. Questo mi piaceva un sacco, solo che possiamo provarli anche. Proviamolo così per vedere un po' quello che fa. Così, l'aspetto mi intrigava tanto. Vediamo. Il suo attacco di base. Ok, è un attacco abbastanza semplice con quel bastone. Attacco in salto. Vediamo invece questo. Ok. Ti penetra praticamente. E la ulti invece cos'è? Carino. Wow, ma la ulti si ricarica velocissima. Ce l'ha sempre praticamente. Ah, ma perché? Oddio, ma è fortissimo. È fortissimo. Cos'è? Ah, ok. Vedi? Perché la devi riprendere. Giustamente. Devi riprendere il bastone. Vedi? Eh, meccanica interessante. Vedete come prendiamo questi? Ci si ricarica la ulti. Mo' Lo riprendiamo. Quindi se tu fai una super combo e riprendi il bastone, poi hai di nuovo la ulti entro poco. Guarda qua, guarda qua. Bellissimo. Vabbè. Questo è uno dei tanti personaggi. Io spero lo scarichiate e lo proviamo insieme. Vi ricordo il server Discord per giocare insieme a tutti gli altri. Farò una sezione apposita per Smash Legends. Se vi piace continueremo a portarlo sul canale. Magari lo portiamo anche in live. Tutte le mattine, verso le 11, tutte le sere. Mi raccomando, tutto in descrizione. Copettino, like. E tutto il resto, iscrizione al canale. Ciao. Ciao.